ciao a tutti amici tano tv per voi allora eccomi ancora qua pronto per stare in vostra compagnia prima di tutto buona domenica a tutti adesso parliamo dei zengavò ma prima mi voglio far vedere un collage di tante foto dei nostri fidanzatini più seguiti d'italia dopo aver visto i video di andrea e rosalinda sempre innamorati sempre bellissimi vi voglio ricordare di iscrivervi al canale attivare la campanella per vedere i video in esclusiva appena escono lasciare i vostri like perché questo mi fa capire che ci siete e che mi sostenete e mettete il vostro commento sotto il video e adesso invece parliamo appunto dei zengavò rosalinda spiega in una storia instagram quanto ama gli animali specialmente il suo come vanno curati come vanno assistiti quanto amore bisogna dare a questi animali quando si prendono e si hanno in casa invece poi vede andrea che guarda un libro dove appunto parla degli animali adesso vi faccio vedere proprio quello che è successo poco tempo fa grazie a tutti 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 Partita finita A caldissimo Abbiamo portato bene Marcello Roslavic Siamo un po' arruffata Però abbiamo portato bene Questo è l'importante Noi parliamo anche l'omedi Avevete voluto Forza Inter Alla prossima Siamo un po' arruffata Alla prossima Alla prossima Siamo un po' arruinata Alla prossima Alla prossima bene amici miei è finito il video adesso io vi saluto e vi ricordo sempre di non mancare al prossimo appuntamento con Talo TV